C'è Roberto Insigni e soprattutto altri ragazzi, che impressione ha avuto in questi due giorni e se c'è qualcuno che l'ha compito per trovare me? Sì, questi li abbiamo parlato prima, li portarli qui, chiaramente si aspetta da loro un buon atteggiamento che l'hanno tutti, stanno lavorando benissimo. Credo che ancora un po' presto, un po' presto, perché devono lavorare perché qualcuno si vede che è un po' nervoso, è un po' costretto a fare le corsi come possono farla. Credo che due o tre giorni, e qui si vedrà un po' il livello di questi giocatori, ma hanno mostrato un atteggiamento spettacolare, tutte le 5-6 che sono qua.